Dal riso alla follia. Nessun allarme, non parlerò delle follie del poeta, anche se la sua morte fu determinata da una pazzia di amore e di dolore per aver perduto il suo caro mecenate due mesi prima. Ma tratterò della concezione che Orazio aveva del riso e della follia. Certo, egli non fa che sorprenderci con le tante sfaccettature della sua personalità e della sua cultura. In tutta la sua opera descrivere a lungo malattie e relativi rimedi sperimentati su di sé e sugli altri, ma lo abbiamo quasi ignorato nella sua veste di psicoterapeuta. In tutta la sua opera descrive a lungo malattie e relativi rimedi sperimentati su di sé e sugli altri. Ma lo abbiamo quasi ignorato nella sua veste di psicoterapeuta. A proposito del riso, Orazio distingue il sorrisetto, un riso leggero, a fior di labbra, quello che egli usa in senso bonario di comprensione, di tolleranza dei difetti umani, indulgente a speciali situazioni di vita. Un sorriso non certo ineffabile, come quello che il Manzoni trova nei bambini, ma profondamente umano, intelligente, sereno, con qualche tinta di commozione. Poi c'è per Orazio il riso satirico, sarcastico, beffardo, aggressivo, che parte da una viva reazione interna dell'animo contro personaggi ed avvenimenti bisognevoli di correzione e di una etica morale o civile, di un superamento di crisi esistenziale. Infine c'è il riso legato ad un particolare stato di allegrezza che insorge spontaneo e prepotente, alla vista di cose, tipi e fatti esilaranti. In questo caso il volto non ha l'impressione di dolcezza del sorrisetto benevolo, ma assume una particolare distensione fisica all'unisono con la dilatazione del cuore, con contrazioni ritmiche dei muscoli facciali, cui si possono associare lacrime di gioia e stridente mugodio delle corde vocali. Non so se il poeta avesse letto il testo sul riso e la folia di Ippocrate. Comunque egli su questo terzo punto, su questo terzo tipo di riso, ci istruisce che è uno dei modi per combattere la malinconia e lui ne aveva tanto, per rimuovere stati di ansia e di preoccupazione da lui sperimentato, per dare vitalità all'organismo che il riso fa buon sangue ed anche per dare sfogo a certe pulsioni interne. Ridere in tal modo è come vivere momenti di grazia che concorrono a darci una vita felice, non come porci del greggio di Epicuro, vivere, ma come saggi di quell'arte di vivere, Cagliardi, o del convivere, Traina, che ci ha indicato nella lezione di vita delle sue epistole del libro primo. Mavrazio è proprio il poeta del momento, invita al carpe diem. al ridere beato e gratificante nei casi della vita e alle piccole follie che allietano la triste esistenza. Non una ricerca puramente edonistica del piacere per il piacere, ma un invito ad approfittare di quei pochi momenti buoni della vita che nell'insieme possono darci uno spazio di felicità. Ma in Orazio sonnecchia il poeta, e non certo come Omero quando dormita. Il suo senso estetico esige che nel ridere non si sorpassi quel benedetto limite della misura, in modo da non apparire sguaiati, sgraziati, eccessivi. Si sottolinea che spesso un'alzatina di gomito con un buon vino predispone all'ailarità perché attutisce eventuali complessi psichici, risolvendo conflitti ed eliminando particolari lemore. Però il vino non sempre è obbligatorio. Comunque, nessuna vergogna nel ridere. Se Democrito, il grande filosofo, tra loro scoppierebbe in una risata. Ed ora è il discorso più approfondito sulla follia. Orazio ne ha fatto uno studio del tutto personale, l'ha distinta sempre nei limiti del modus, secondo le tre funzioni, liceità, utilità, liricità. Nell'Ode 4.12 Vergilio scrive «Quando è lecito, mescola ai tuoi gravi pensieri un momento di follia. È bello far pazzie a tempo opportuno». Quindi ha espresso una norma del buon vivere, in cui la follia è intesa non come alienazione mentale, sconsideratezza, delirio, allucinazione e intenzioni di morte propria o altrui, ma con lieve esorbitanza dai confini del vivere comune, dove al pensiero si coniuga felicemente il raptus della fantasia, senza produrre degradazione o disintegrazione della personalità. In questo modo è lecita, morale, tolerabile e innocuo. Nell'Ode 3.19, un simposio d'inverno, accenna allo insavire iuvas, perché, come per il riso, anche qui si ha un benefico effetto sulle malsane condizioni della psiche, liberandola da tensioni, costrizioni, apatie, scoraggiamenti, inibizioni varie. Una vera terapia di quella che Pigeot chiama «la maladie de l'âme». Nell'Ode 3.4 il poeta, a differenza degli altri, gode di un particolare privilegio. Egli avverte una amabilis insania che gli deriva dalla ispirazione lirica, dalla fantasia che incarna nelle cose la bellezza di certe immagini, da quel senso di elevatezza nel regno dell'irreale e del surreale. Cose di poco conto, senza nessuna grave conseguenza, una parentesi nel vissuto quotidiano abituale. Anche Davo e Damasippo spiegano il poetare di Orazio come una forma di pazzia, ma con tono scherzoso, perché lo vedono con la testa tra le nuvole, fuori dalla realtà. Ma Orazio è invece decisamente contrario alle varie forme della vera pazzia. Per Orazio tutti gli uomini sono pazzi. Chi vive tra i pazzi diventa pazzo, ma anche il folle deve avere una certa misura, il modus, se no è una vera catastrofe. È quasi un piccolo trattato sulla follia, degno di uno psicoanalista, che numera forme, modi, esempi, avari, usurai, politici e persino i romani, che si sono messi tutti a scrivere versi, terapie, e cita l'Elleboro, una pianta medicinale ottima per sedare le esaltazioni maniache. La cura della follia sfocia naturalmente nella conquista della saggezza, ma anche per Orazio, tra il dire e il fare, c'era di mezzo il mare. In Ode 1.34 confessa candidamente di essere pieno di una saggezza pazza, e sapendo di essere malato più di mente che di corpo, vede che le sue sagge teorie stentano a dare il risultato promesso. Egli, che a piene mani ha decantato il modus in rebus, non riesce a darsi un limite come uomo, e tantomeno sarà facile per qualunque uomo. Pitagora non poteva sperare di avere un allievo migliore di Orazio per questa inquadratura matematica della vita, ma egli era un grande teorico della aritmetica e della geometria, mentre il poeta cercava di attualizzare la sua nella realtà esistenziale. D'altronte, una umanità fatta su misura, con uomini tutti al limite, sarebbe una monotona rappresentazione della realtà umana, senza quella fantasmagorica varietà di tipi, tendenze, realizzazioni, vitalità espresse al di qua e al di là del modus. Ma la lirica gaia di Orazio non è fatta per gravi argomenti e il poeta, anche se l'arte serve alla vita, ha bisogno di quelle brevi e deliziosi odi dove attinge il nettare dell'ape mattina necessario al suo benessere materiale e spirituale. Il suo riso è stato per troppo tempo sarcastico e demolitore del malcostume, dei vizi, delle guerre fratricide, ha bisogno di sorriso tenue, quello che gli fa tentennare il capo alle favole della rana e del vitello, dei topi di città e di campagna, della volpe e del leone, della cornacchia e degli uccelli. Magari un riso artefatto, l'occasione per dirimere gravi questioni che non risolverebbero le più agitate e invettive. Ma ora lasciamolo ridere di cuore, tra gli amici, con la coppa di vino in mano, tra una barzelletta e l'altra, fra una critica o una punzecchiatura, magari prendendosi gioco fin anche di Roma e di Augusto, accompagnandosi a qualche tratto di follia. È il momento giusto.